e c'è lavori oggi, è un macello De Marcus Cousins, dopo una vita intera passata a lottare contro ogni tipo di infortunio quest'anno finalmente è tornato l'ha fatto con gli Houston Rockets e l'ha fatto devo dire tutto sommato anche abbastanza bene perché stava viaggiando a una media così spandometrica di 9-7 rimbalzi in una ventina di minuti salvo poi essere tagliato improvvisamente dai Rockets o meglio, prima il 19 di febbraio i Rockets gli hanno garantito il contratto in essere e poi dopo, due giorni dopo, il 21 di febbraio per l'esattezza hanno deciso di tagliarlo e quindi a noi community mondiale appassionata dell'NBA non resta altro che prendere una decisione tra due possibili cose che possiamo fare uno, andiamo sotto i Facebook dei Rockets e ci si tagga i trailer di Split di Shashalamam, Shashamalam, Shashalu, lui oppure, due, iniziamo a parlare di quello che potrebbe essere il futuro di De Marcus Cousins perché guarda caso chi è che c'è alla finestra pronto a vedere come evolve la situazione? i Los Angeles Lakers tre motivi per cui sì, De Marcus Cousins ai Lakers potrebbe essere un ottimo affare per entrambe le parti in causa e tre motivi per cui no, questo matrimonio non sa da fare il primo perché sì lo si potrebbe intitolare déjà vu nel senso che in realtà De Marcus Cousins avrebbe già fatto parte dei Los Angeles Lakers faceva parte della squadra dell'anno scorso, quella 19-20 che poi tra l'altro avrebbe vinto anche l'Anello solo che per uno dei tanti ennesimi infortuni sfortunatissimi della carriera di De Marcus Cousins è andato KO prima ancora che la stagione potesse cominciare quindi da lì in poi la situazione si è evoluta come conosciamo bene Dwight Howard, Giavalone e tutto il resto però De Marcus Cousins c'è stato conosce l'ambiente, conosce il contesto, conosce Lebron James soprattutto e conosce Anthony Davis con il quale peraltro ha già condiviso anche una maglia e quella stagione 2017-2018 che è stata l'unica in cui De Marcus Cousins e Anthony Davis hanno giocato insieme per tutto l'arco della stagione Anthony Davis, guarda un po', ha mantenuto la media realizzativa più alta in assoluto in tutta la carriera qualche cosa potrebbe contare secondo perché sì, lo potremmo chiamare Operazione Nostalgia nel senso che durante tutte le volte in cui Lebron James nel corso della propria carriera ha vinto qualcosa, ha vinto l'Anello segnatamente ha sempre avuto, come non è, in squadra un ex All-Star uno o più ex All-Star ex All-Star o comunque ex prime punte di altre squadre diciamo da giovani giocatori che in passato durante il corso della loro carriera sono stati delle prime punte e che poi hanno scelto in vecchiaia, tra virgolette di riciclarsi ha un ruolo un po' più d'aggregare un giocatore che magari gioca meno minuti però porta esperienza cosa fondamentale soprattutto nei play-off soprattutto nelle partite importanti quando il pallone scotta qualche esempio da Rushar Lewis a Ray Allen da Dwight Tower a Rajon Rondo passando ovviamente per JR oppure lui no se volete contare soltanto quelli vestiti quello scelta vostra terzo e ultimo perché sì le alternative perché il basket di oggi l'NBA di oggi in particolare nel 2020-2021 va verso il tiro da tre punti ci va in maniera proprio inesorabile ineluttabile Stephen Curry e tutta quella roba lì però, però, guarda caso l'ultimo MVP della Lega è stato Giannis due volte MVP che il tiro da tre punti anche no uno dei pochi uno degli ultimi the next big thing che ci abbiamo che è Zion Williamson tiro da tre punti peggio mi sento questo perché tutto sommato anche nel basket di oggi che va verso il tiro da tre punti averci un punto di riferimento sotto canestro è importante e guarda caso i Lakers hanno vinto l'anno scorso perché sono una delle poche squadre che hanno nella loro coppia di stelle un bilanciamento diciamo meglio assortito c'è un esterno anche se poi Lebron gioca dove gli pare come gli pare ma nasce come un esterno e c'è un lungo che è Anthony Davis quest'anno però con Margazol che diciamo non sta esprimendo proprio il meglio del basket che gli abbiamo visto giocare in carriera con Dwight e Giavalone che non ci so più e con Anthony Davis che fino a ora è stato più le volte che era rotto di quelle che era sano probabilmente inserire un altro giocatore che possa diventare un riferimento sotto canestro come Demarcus Cousins potrebbe funzionare però primo perché no il carattere perché nonostante il fatto che Demarcus Cousins abbia più volte riferito di averci lavorato tanto sopra anche con dei professionisti del settore Demarcus Cousins oggi resta comunque il quinto in classifica in assoluto in tutta la Lega per questa stagione come numero di falli tecnici più di lui soltanto Westbrook Dwight Howard Draymond Green e Biombo Demarcus Cousins è Demarcus Cousins e resta sempre lui potrebbe essere una minaccia potrebbe essere una mina vagante nei confronti di quegli equilibri precari che comunque si sono trovati all'interno dello spogliatoio dei Lakers secondo perché no win or go home quando il gioco si fa duro quando il gioco si è fatto duro in particolare nei playoff nella bolla dell'anno scorso di Orlando i Lakers hanno preferito andare di small ball o comunque hanno preferito giocare con Anthony Davis da 5 e panchinare Dwight Howard e Giavalone il minutaggio di Dwight si è abbassato drasticamente ai playoff e alle finals anche di partita in partita all'interno delle stesse finals e Giavalone praticamente è uscito definitivamente dalle rotazioni questa cosa Demarcus Cousins ricollegandoci al punto numero uno dei perché no potrebbe far fatica ad accertarla terzo e ultimo perché no ci vuole un fisico bestiale perché battiato nei quasi gaming ma ispirato questa retrospettiva nei confronti della musica leggera italiana anni 80-90 Demarcus Cousins me lo so segnato nel corso di tutta la sua carriera nei 10-11 anni di carriera che ci ha avuto fino ad ora ha giocato 565 partite sulle 820 disponibili cioè 820 gare che avrebbe potuto giocare da quando è arrivato in NBA praticamente è qualche cosa meno del 70% vuol dire che te ti prendi un giocatore te lo paghi comunque per il valore che ha e 3 volte su 10 non gioca injury prone questo più o meno è quello che mi viene da pensare nel momento in cui sento leggo in giro sul web il nome di Demarcus Cousins accostato ai Los Angeles Lakers è un argomento abbastanza di tendenza nelle ultime ore negli ultimi giorni rigorosamente lo abbiamo trattato fuori orario come d'abitudine ormai qui per campo aperto perché noi sulle notizie ci arriviamo sempre di solito molto dopo rispetto a quando sono fatti di cronaca qualche volta come in questo caso molto prima perché se lo scambio si dovesse fare che poi scambio non sarebbe perché comunque se ne va dai Rockets ma insomma se Demarcus Cousins dovesse arrivare ai Lakers succederebbe comunque tra una settimanetta dieci giorni anche due settimane ma a questo ormai ci siete abituati una cosa a cui non siete abituati probabilmente è questa volubilità di calendario di programmazione che abbiamo qui sul canale in questi giorni purtroppo va così perché ci sono tante cose da dover inserire nel mezzo consiglio che vi posso dare fate un salto su Instagram perché lì magari mi capita più spesso di dare aggiornamenti su quello che ci sarà la sera stessa e se no si sta alla sorte uno apre dice che c'è stasera boom fate e se lo spara è questo un salto un salto Grazie a tutti